Covid-19 Mamma, che so mamma di questi momenti? L'avessi chiuso i tempi da questa lontana da vasare a me? A casa è la stanza rete per non finire in garcia rete. Scolo, figli, chiesi e camposanti non hai chiuso per tutto quanto. Cos'è un bel stile? Ne ho mangiato tante da bello. E c'è questa cosa nuova, chiamata Covid-19. La cronaca è per questa signorina. Si dice venuta dalla Cina. Gli hanno fatto la pureta o hanno fatto la bandetta? Non, figli, dove fatti è tristi. E i matri a Cristo ci hanno potuto strutturare te. Sennò che tutto il mondo ha ammazzato. Stova via una brutta bestia. Imposibile e capotesca. Naturalmente mi baciano a sciù. E non ve lo fattano più in più. Ma per gli id sono dicondate. Utesca, già non cosa accadete. E l'ascenza del coronavirus. Alla fine va dentro il musso. Ed è scoperto ma a lui colore. Viva Dì, suo maestro. Vito Sciacovelli, Santerramo in Colle.